Un pavimento a grata e inclinato di chiaro stampo industriale, sul quale sono incastrati molti sassi comuni, gli stessi che si trovano nei giardini della Biennale di Venezia. Siamo all'interno del Padiglione Nazionale del Brasile, che ospita il silenzioso e ambiguo progetto dell'artista Cinzia Marselle, che rappresenta il paese sull'americano alla 57esima Biennale d'Arte. Curata da Jochen Wolfs, terreno di caccia, questo è il titolo dell'esposizione, presenta anche elementi scultori e di pittura, diversi paletti di legno spuntano al pavimento e ciascuno di essi sostiene un dipinto di stoffa arrotolato sulla punta, come per nasconderlo, oppure per proiettarlo lontano, in un altrove forse migliore, chissà. Verso altri luoghi si muovono anche gli uomini, che parevano essere dei detenuti, ma su questo non ci sono certezze, immortalati nell'unico video presente che Marselle ha realizzato con il cineasta Tiago Matamaciado. L'unica inquadratura vede questi uomini togliere i tegole da un tetto, aprendo un varco nel quale potranno entrare e poi da lì prendere il volo. L'emozione dello spettatore potrebbe portarlo a pensare alle rivolte carcerarie in Brasile, ma anche nel resto del mondo, ma la mostra non offre alcun commento diretto a questi fatti. Quello che conta, e che possiamo affermare con una relativa speranza di certezza, è che l'intero progetto del padrone brasiliano mira a mettere in primo piano l'instabilità fisica e morale che può poi innescare la ribellione, di cui forse quei dipinti che sembrano bandiera e fantasma rappresentano tanto i presupposti quanto i possibili esiti, che restano avvolti nel mistero dei dappi ripiegati, mentre intorno il mondo che li circonda toglie punti di riferimento e scivola in una dimensione che ricorda la desolazione dello spazio quando viene degradato con non curanza. Ma tutte queste potrebbero essere solo illazioni frutto del senso di ambiguità e sospensione che si percepisce nelle sale del padiglione.